Grazie Roberto, allora le squadre in campo, in maglia blu, Gap Italia, Safe, Riding, Polo, Team, al numero 1 Stefano Gianglanti, al numero 2 dall'Inghilterra, Jamie Lee Hattie, e al numero 3 l'artefice di questa manifestazione, Patrizio Rattagan. Risponde in maglia bianca, US Polo Association, i profumi dell'Armo Polo Team, con il suo capitano, Alessandro Barnabas. Al numero 2 dall'Argentina, Adolfo Casabalto. Al numero 3, sempre dall'Argentina, Nicolás Robert. Arbitro dell'incontro, Franco Piazza, 4 zackers di 6 minuti totali. Il gioco inescherà con il throw-in, mentre Roberto si chiede il microfono. Dalle 30 yard, da parte del capitano di US Polo, Alessandro Barnabas. E quindi adesso, in questi ultimi 3 minuti di gioco, ci vedremo delle belle, perché comunque il Polo è così, non si può mai dare per scontato il risultato di una partita fino al suolo della campana. Guardate che bravo, Rattagan dalla parte opposta, Gai Miliardi, Picchia a lungo, la palla rimbalza, torno indietro, ancora Gai Miliardi, si ferma, guarda il fiascamento dei compagni. Apre un swing, Picchia nel mezzo, verso Stefano Giastatti, e bravissimo! Alessandro Barnabas con un bel back di Rolescio, aperto alle tavole, arriva Gai Miliardi, siamo entrati negli ultimi 2 minuti. Mezzo colpo, riparte, prima campapalla, poi Roberts, eccolo il giocatore Arsettino, porta palla in avanti, ancora un colpo, ancora palla per Barnabas. La conquista, all'altezza delle 30 yard, cerca di tirarla, ha il problema di respingere l'attacco di Stefano Giastatti, ci riesce una prima volta, non riesce a contenere il ritorno di Cemi Miliardi, che picchia dalla parte opposta, sul lato lungo, sempre verso Patricio Rattagan, buono il sottocollo, la palla rimbalza, ultimo minuto di gioco, Ancora all'attacco, buono il back, la palla verso la palla, e il 2, magnifico, che grande giocata! ... ...secchino del film, tornate... ...secchino loro, altro... ...secchino... ...dall'officina delle medaglie, un altro caro amico, Gabriele Veneri... ...no, no, no... ...eccole, le medaglie con le foto di rito... ...un applauso a Stefano Giastatti, da Alessandro Parnabas, capitani voracciosi di questo grande ritorno del Polo a Portina... ...Cemi Miliardi... ...Patricio Rattagan... ...poi chiediamo di fare una foto... ...e via, un applauso... ...a questi giocatori... ...una foto, per favore, solo le squadre... ...lo squadre... ...solo le squadre... ...un applauso in dì? ...Garonti? ... ... Aspetta, mani con loro, non posso sentire il polvere di... ...un avete vinto, un petta, vai! yeah! ... ... ... ... ... ... Grazie.